Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Quindi una qualità targata, potremmo definire, no? Sì, penso che questa sera è stato detto tantissimo sulla medica. Io rappresento, sono il segretario dell'Associazione Trasformatori, per cui vorrei sottolineare due aspetti principali. Uno, che effettivamente noi siamo un anello di una catena molto corta, perché abbiamo a che fare direttamente con i produttori agricoli e molto spesso i nostri clienti sono gli utilizzatori finali. Per cui noi abbiamo la possibilità di garantire la tracciabilità, la salubrità. Noi abbiamo preparato, predisposto, un documento che sono le linee guida per l'autoregolamentazione di tipo igienico. E questo qui significa anche tutto un sistema di tracciabilità e di garanzia per i nostri clienti e anche per il consumatore finale che i prodotti che noi trasformiamo sono prodotti che hanno le caratteristiche idonee per poter essere, per valorizzare poi i prodotti che vengono utilizzati per tutto ciò che viene utilizzato attraverso i nostri prodotti. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è il fatto che è cessato da un paio d'anni il contributo che era dato al nostro settore diretto. Quanto era? Beh, ultimamente erano 33 euro a tonnellata. Si può recuperare attraverso quello che è stato fatto poi in questi ultimi due anni che è un maggior impegno anche di tipo imprenditoriale per cui sono state fatte e si stanno facendo degli investimenti importanti per quanto riguarda anche l'impiantistica in modo tale che questi impianti di produzione possano essere sempre più competitivi sia sotto un profilo economico sia anche di consumo di energia. Per cui diciamo che gli imprenditori credono molto in questa attività sono convinti che questa qui sia un'attività che abbia del futuro e che abbia un senso che esista in tutta una zona come è stato detto poi fino adesso che tutto sommato ha bisogno che esistano queste alternative a quelle che sono le attività agricole principali. Abbiamo visto il nostro presidente che non era d'accordo. Dove non era? Prego. Volevo solo dire che i 33 euro una volta li incassavi il trasformatore li percepivi il trasformatore che poi li rimettevi in circolo adesso invece con la nuova pacca va direttamente all'agricoltore che fa il contratto ora qui mentre 33 euro potevano essere 350 euro ettaro rappresentavo in passato perché oggi quello che noi chiediamo anche per essere coerenti con quello che fanno in Francia siamo sull'ordine di 125 euro ettaro quindi recuperiamo solo un parte e qui 300 che... però questo ci serve per sopravvivere perché il fatto che non c'è più l'aiuto è che la produzione italiana sia diminuita del 20% in questi due anni è una realtà quindi se non fermiamo questa cosa dando un incentivo all'agricoltore perché faccia medica da vendere ancora noi riteniamo che sia l'unica... Togliendo l'incentivo l'agricoltore si è un po' allontanato? Eh certo è calato tutto e quindi se non si dà questo incentivo all'agricoltore potrebbe allontanarsi ancora di più e il settore ridimensionarsi molto anche perché ripeto la concorrenza dei cereali la concorrenza delle biomasse la concorrenza dei digestori e soprattutto la possibilità da un anno all'altro di cambiare cultura quando si fa l'erba medica il terreno rimane investito per 4-5 anni quindi con tutti i vantaggi per l'ambiente che questo ne deriva ma con tutti gli svantaggi per l'agricoltore che si sente impegnato per 4-5 anni con un investimento che non può essere guastato il grano un anno si fa l'anno dopo si fa la soia poi l'anno dopo si fa il ceroso per il biogas la politica questa sera mi sembrava d'accordo con voi Paolo De Castro mi sembrava di capire che se mettiamo d'accordo gli assessori ma non è facile mettere d'accordo gli assessori volevo anche dire si ha ragione Riccardo soprattutto questa filiera è concentrata qui soprattutto in Emilia Romagna qui c'è il 40% degli impianti però non è vero che non ce n'è al sud ne abbiamo molti anche nel molti importanti impianti nell'Asse o nell'Umbria quindi ce ne sono sono localizzati in certe zone quindi l'interesse potrebbe essere nazionale non solo localizzato in questa ma come hanno fatto anche in Francia in Francia hanno dato un budget a livello nazionale da spalmare fra tutti gli agricoltori che fanno contratti con i disidratatori da noi chi ne ha la stessa cosa un budget da stabilire che quindi rientra benissimo nel budget che è previsto per il piano proteine perché su 70 milioni 70-80 noi ne chiediamo 8-10 per mantenere in piedi questa filiera a livello nazionale questa cifra va da altri agricoltori che si impegnano con dei contratti con i trasformatori anche perché abbiamo avuto degli esempi se vogliamo ricordare il breve abiettivo da zucchero non è stato un bel esempio quello abbandonare gli impianti e abbandonare la cultura ecco non vorremmo vorrei insistere siccome la commissione nel fare il regolamento ha detto che a proposito degli aiuti accoppiati ogni stato è facoltativo ogni stato membro è libero di fare però poi la commissione vigilerà come sono stati i dati cioè le finalità e insiste in un certo punto dicendo che gli aiuti vanno dati per mantenere una certa situazione e per favorire l'approvvigionamento di materia prima dell'industria della sformazione locale noi dobbiamo adesso convincere facciamo un passaggio di microfono a Bagnara visto Gianluca noi dobbiamo convincere il consumatore ma dobbiamo convincere anche l'agricoltore abbiamo ancora qualche minuto a disposizione allora noi dobbiamo lanciare dalla televisione dobbiamo lanciare dei messaggi semplici semplici far capire il valore perché se mangio un prodotto di alta qualità forse merito anche dell'erba medica adesso voglio estremizzare proviamo a dirlo al consumatore e proviamo a dire all'agricoltore perché continuare a fare l'erba medica perché se l'agricoltore non fa reddito è chiaro che è una cultura che abbandona sui aspetti di qualità e valore nutritivo l'abbiamo capito è eccezionale la qualità è straordinaria e ci bacchetta direi che la partita importante è questa cioè piano proteine non è un modo diverso di dare dei soldi o di ripartire dei soldi o per tirare la coperta da una parte o dall'altra deve essere un'opportunità per integrare e completare una filiera allora è lì che si gioca la vera partita cioè questo deve essere lo zuccherino per dire guarda se partiamo dal lettoro fatto a medica loro possiamo mettere in fila la trasformazione della medica la mangimistica fino ad arrivare alla carne al latte allora lì costruiamo la qualità siamo in condizioni di partire ripartire siamo e dobbiamo perché altrimenti se iniziamo continuiamo a pensare alla PAC a tutti gli strumenti che l'Unione Europea ci mette a disposizione come vediamo di prendere qualcosa fra un anno o due o cinque saremo ancora da capo siamo imprenditori non aspetta andremo a alimentare quello che tutti chiamano il problema della burocrazia cioè poi dopo su questo il fatto che si gioca da una parte o dall'altra ognuno cerca di mettere sull'altro un po' più di burocrazia per impedire che vada a fare gol allora invece la partita è di dire siamo una filiera giochiamo per andare sul mercato perché è il mercato che poi alla fine ci va a giudicare non è i cinque o dieci euro in più a ettaro quelli sono lo spunto la benzina per poter andare a giocare questa partita qua dobbiamo completare questa filiera penso che sia questa l'opportunità di organizzare possiamo crederci quindi? possiamo crederci? non c'è altra partita non c'è non abbiamo altra partita davanti i mangimisti come mai non sono qua stasera con noi? i mangimisti è un altro segmento che va portato ad analogica di scarichiamo una nave e mescoliamo dei prodotti a essere in filiera guardate che usiamo tantissimo la parola filiera in agricoltura ma fuori agricoltura è sconosciuta questa parola qua addirittura nel concetto inglese non c'è neanche la traduzione per dire far capire e vuol dire organizzare tutto un sistema in modo diverso allora ci potremo distinguere da quelli che sono i mercati delle commodity delle finanze internazionali e così via altrimenti saremo succubi di questi sistemi qua partire dai disciplinari per esempio come ha il parmigiano reggiano dall'organizzazione il disciplinare è un modo per governare un'organizzazione se non abbiamo in testa che deve essere una filiera completa e organizzata territorio scafale tutto in mezzo se ci sono dei buchi già salta il sistema e saremo sempre più esposti alle speculazioni internazionali parliamo di proteine perché abbiamo un'autonomia in Italia e in Europa di 5 giorni di stock di proteine vegetali 5 giorni sono una nave Panama che scarica vuol dire che se durante il tragitto che ci mette un mese da Brasile da Argentina arrivare qua succedono speculazioni o notizie di qualche tipo la nave rallenta o accelera e in funzione di questo cambia il mercato i prezzi sul nostro mercato e di conseguenza la maggiorità dei nostri produttori questo è il livello di rischio attenzione quando si parla di sicurezza alimentare in termini di approvvigionamento noi pensiamo sempre ai mondi africani noi terzo mondo ma siamo noi perché nel momento in cui abbiamo un prodotto dove abbiamo un'autosufficienza di 5 giorni all'anno siamo a livello di terzo mondo e mettiamo rischio e come prezzi e come qualità perché poi siamo costretti ad accettare quello che arriva perché altrimenti il mondo americano dice non ti va bene questa nave la giriamo la mandiamo in Cina che ci paga subito bene prego mi consenta solo di ricordare questo aspetto ci sono alcuni animali che possono essere nutriti esclusivamente con mangimi in senso stretto ma la zootecnia più diciamo diffusa a livello territoriale che è la zootecnia da latte o da carne quindi che si basa su ruminanti necessita di proteine e di fibre la medica ha questo enorme vantaggio che è una fonte di proteina eccelsa ma altrettanto di fibra di foraggio e senza foraggio non possiamo fare ed è per questo che anche il mangimista non può che vedere con favore questo perché di soli mangimi questi animali non possono vivere ma trovano la massima capacità di pagare anche i mangimi ad alti prezzi quando vi sia una buona disponibilità di fibra di alta qualità e la medica è il candidato per eccellenza di questo bene io se siete d'accordo vorrei continuare però abbiamo ancora tre minuti di orologio vorrei concludere con un messaggio molto forte all'agricoltore e uno al consumatore vorrei che lo facesse anche Tonello magari un messaggio forte uno al consumatore e l'altro all'agricoltore poi passiamo ai canali visto che abbiamo le due associazioni di categorie prezzi il consumatore oggi i messaggi forti credo che glieli abbiano già dati al consumatore non gli abbiano dato lo strumento per poter arrivare poi ad esercitare di fatto una sua scelta perché quando allunga la mano sullo scaffale e non conosce di fatto l'origine di quelle produzioni gli abbiamo raccontato una bella storia ma che non riusciamo a valorizzare e quindi ci stiamo perdendo purtroppo nelle pastoie della burocrazia dove assistiamo stranamente ad un governo ad un Parlamento che in maniera totale vota per l'etichettatura obbligatoria di un bene e poi nella burocrazia non ne esce di fatto una sua applicazione all'agricoltore non posso che non lanciare un messaggio ma di cui non ce n'è di fatto di bisogno lanciarlo agli agricoltori perché gli agricoltori aspettano delle opportunità fossero anche quelle di capire che tipo di bene sta producendo e per che cosa che non è diventato poi così banale perché ripeto le differenze anche su alcune culture sono di qualche decina di euro che non fanno la vita o la morte di un'azienda agricola di un'impresa eccetera però a volte è molto importante anche conoscere per che cosa sto producendo quello che faccio ha realmente una sua valorizzazione oppure mi sento tra virgolette un meccanismo all'interno di un meccanismo dove tentano più di fregarmi che non di darmi quel valore aggiunto e questo tocca un po' a tutti i comparti se li guardiamo staccati uno dall'altro quindi il ragionamento è quello in effetti di mettere gli interessi comuni e lo possono essere solo se realmente partiamo da quel bene che viene venduto nella sua ridistribuzione del valore riusciamo a dare tra virgolette quello che la filiera si aspetta perché alla fine se anche l'agricoltore dovesse avere tanti incentivi per effetto del quale noi dovessimo spostare delle produzioni oggi per esempio che le andiamo a togliere a che cosa noi siamo deficitari di soia l'abbiamo detto prima siamo deficitari di mais siamo deficitari di erba medica ogni spazio che tiriamo via da una parte rischiamo di averle libero dall'altra ora ci sono alcuni temi che prima sono stati sfiorati biodigestori è stata una scelta oculata quella di poter dare consentire voglio dire un doppio aiuto di fatto anche a chi fa questo tipo di lavoro perché ha un aiuto che ne deriva dalla valorizzazione dell'energia e poi ha anche gli aiuti di parte agricola è ancora una logica che può durare nel tempo punto interrogativo decidiamo e vediamo di capire perché altrimenti la competizione che oggi magari può dare chi sta producendo per fare energie quindi per non fare cibo riesca di essere più competitiva che non chi oggi è un produttore di cibo quindi questa è un'anomalia sulla quale noi dovremmo discutere se il 2050 saremo veramente così tanti come ci raccontano per esempio se oggi stiamo producendo 270 milioni di tonnellate di carne ce ne sarebbe bisogno di altri 200 milioni e se non mettiamo in fila voglio dire una filiera che tenga io non lo so con cosa produrremo beh questa sarà la prossima trasmissione di agridina cibo e energia possono convivere questo potrebbe essere il titolo della prossima nostra trasmissione canale io direi per correttezza anche lei deve dare un consiglio l'agricoltore non ha bisogno di tanti consigli però facciamo capire al consumatore che l'agricoltore è fondamentale per questa nostra società potrà sembrare strano ma condivido quello che ha detto Tonello in larga parte che è strano tanto i problemi sono gli stessi dell'agricoltura italiana la prima cosa è l'etichettatura dobbiamo dare al consumatore la possibilità di scegliere la mela cinese piuttosto che quella dell'alto adice gli lo scriviamo poi starà lui scegliere starà lui assaggiarle tutte e due sentire qual è la migliore però dobbiamo arrivarci perché se no diamo al consumatore l'idea che l'etichettatura c'è e invece non gli diamo la possibilità di scegliere poi dobbiamo poi dobbiamo anche però ricordarci che non siamo autosufficienti e non lo saremo mai quindi dobbiamo anche convivere con questo spettro della non autosufficienza ricordiamo e non apriamo altri temi il mais che abbiamo buttato via l'anno scorso nei digestori perché era pieno di aflatossine aprirebbe scenari completamente diversi comunque la partenza deve essere quella di dare al consumatore la possibilità di capire cosa porta nel piatto poi tutta la tracciabilità dietro sarà il consumatore a scegliere a premiare le filiere che meritano di essere premiate bene allora Gianluca prego 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 faccio parte della squadra diciamo il concetto di filiera se mi è concesso fare così a modo di battuta credo che andrebbe esploso nel concetto di squadra dove ognuno gioca un ruolo in maniera perfetta affinché la squadra vinca cioè quando una squadra di calcio vince sì avrà fatto gol Tizio Caio Semprogno ma in effetti chi cresce è la squadra quindi il concetto di filiera a mio avviso deve essere superato dal concetto proprio di squadra dove ovviamente Tonello piuttosto giocano il ruolo a loro dedicato i contoterzisti piuttosto che i professori ma alla fine deve vincere l'oggetto dell'interesse comune per il paese e questo almeno due minuti Massimo Cocchi una battuta finale facciamo un giro veloce ha sentito parlare di etichettatura credo che sia un secolo ormai che si parli di etichettatura ma cosa volete che capisca la gente quando prende un pezzo di una scatola qualcosa che dice grassi saturi 025 un'etichetta semplice grassi polisaturi io credo che vada descritto il prodotto e che deve essere certificata la garanzia cosa che freghi al consumatore di non sa che cosa sono quello che c'è scritto in etichetta io credo che 9 su 10 non sanno è un consumatore più attento oggi no ma è più attento e al prezzo perché se fosse attento non comprerebbe l'olio d'oliva a 3 euro la bottiglia che non è olio d'oliva scusate vabbè il consumatore attento probabilmente lo lascio sullo scaffale Andrea Formigoni allora allora concludiamo questa erba medica diciamo proviamo a dire proviamo a convincere l'agricoltore ma l'agricoltore si convince l'agricoltore si convince quando si realizzano tutte le condizioni che abbiamo detto la prima condizione è quella di rendere interessante produrre erba medica rispetto a qualcos'altro per far questo bisogna andare a creare del reddito noi oggi abbiamo delle aree che creano reddito che deve essere ridistribuito ripeto l'allevatore ha bisogno dell'agricoltore è inscindibile l'allevatore che produce latte formaggio ha bisogno del consumatore e quindi è una catena che è naturalmente collegata probabilmente quello che è stato detto qui ancora stasera è importante fare in modo che i diversi comparti si parlino e si definisca ciò di cui c'è bisogno e ognuno deve fare la sua parte in maniera leale come si dice leale mercantile e a questo punto il gioco credo che naturalmente venga fatto un aspetto non è che debba essere creato un qualcosa di nuovo perché c'è già tutto c'è il problema è mantenerlo e qualificarlo ulteriormente questo è un aspetto molto importante perché sembra che il piano proteine sia una cosa ex nuovo no il piano proteine nella realtà c'era c'è l'importante è conservarlo affinché possa essere mantenuto e valorizzato ulteriormente governato possiamo dire sì governato è una buona è una buona parola si può è un buon programma bene allora un'etichetta più semplice diceva diceva voleva dare voleva ribadire l'etichetta per noi semplice è l'origine del prodotto non è tanto quindi molto semplice si capisce dove allora quando si capisce da dove arriva mi permette di raccontare cosa ho fatto per farlo arrivare lì se oggi lo racconto il consumatore è perso perché quando va a comprare magari la scatola di una cosa rispetto a un'altra pensa immagina di comprare una roba che è cresciuta dietro casa e si ritrova magari di aver comprato una roba che arriva da chissà dove è stata conservata chissà come magari è anche un prodotto buonissimo ma uno nella libertà di scelta del consumatore seglie anche se dare un aiuto un contributo alla propria nazione rispetto ad altre bene concludiamo Gianluca Bagnara quindi mi sembra tracciabilità rintracciabilità fondamentale per valorizzare l'erba medica è il metodo per garantire questa famosa filiera uno due etichetta di origine non di provenienza perché si gioca molto su questi su questi termini no perché si parla di etichettatura poi ci si mette origine provenienza origine vuol dire il territorio l'agricoltore non dove si trasforma dove è stata fatta la trasformazione del prodotto alimentare e così via abbiamo già tutto abbiamo già tutto e dobbiamo metterli in fila abbiamo anche internet per esempio abbiamo internet abbiamo le professionalità che ci invidono in tutto il mondo perché gli altri paesi ci fanno concorrenza con il nostro know-how dobbiamo dire anche questo l'altro siamo in una fase importantissima di applicazione della PAC qua la PAC deve essere applicata non in base a la procedura che si sono sempre fatte ma deve essere una programmazione del territorio prima di tutto non dimentichiamo questo la comunità europea dice che la PAC deve essere una programmazione del territorio e non mi sembra che si stia facendo molto perché prima dobbiamo capire i territori su cui dobbiamo e come dobbiamo intervenire l'altro deve essere un modo per attirare investimenti e sviluppare fare sviluppo non è riparto di soldi secondo me questa è un'altra partita importante che dobbiamo giocare velocemente perché siamo già in ritardo domani partiamo con qualcosa le nostre proposte ai ministri le abbiamo fatte vogliamo vedere adesso che anche anche le regioni il mondo agricolo c'è ed si sta giocando in squadra perché qui abbiamo il mondo agricolo abbiamo le professionalità che fanno lavorazione ma il mondo scientifico quindi qui abbiamo una filiera di professionalità e speriamo che questo si traduca anche in programmazione del territorio bene piano proteine vegetale ne parleremo col ministro la prossima settimana noi vi diamo appuntamento a Vinitri dal 6 al 9 saremo presenti il 6-9 aprile a Verona saremo completo al ministero dell'agricoltura continueremo a parlare di opportunità per l'agricoltura italiana con questo è tutto linea allo studio grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.